Buongiorno, parliamo con Paolo Lenzuni della direzione regionale toscana dell'INAIL, unità operativa territoriale di Firenze, e con Raffaele Mariconte, sempre dell'INAIL, dipartimento DIT, ma lo leggo perché è un dipartimento molto lungo, dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti insediamenti antropici. Sì, confermo. Allora, al di là appunto dei vari ruoli, erano entrambi i relatori al convegno di BIA 2022, rischi fisici nei luoghi di lavoro che si è tenuto ieri, se non erro. Allora, la relazione ci permette di parlare di un rischio che io considero emergente, non tanto emergente perché ha a che fare con particolari innovazioni tecnologiche o piuttosto cambiamenti organizzativi, ma perché se ne comincia a parlare, nel senso che raramente si parla di ultrasuoni. Infatti la relazione era ultrasuoni nei luoghi di lavoro, sorgenti, danni, valutazione del rischio. Allora, diciamo, parliamo di questo rischio che io definisco emergente in questo caso, in questa accezione, e cerchiamo però di comprenderlo. Cos'è il rischio ultrasuoni e cosa sono gli ultrasuoni specialmente? Allora, gli ultrasuoni sono onde di pressione acustica che si propagano in un mezzo elastico, quindi in aria, nei liquidi o nei solidi, ma hanno la caratteristica di avere frequenze tali da essere al di sopra della nostra soglia di udibilità. Quindi, a differenza del rumore, che ovviamente non lo vediamo, però lo sentiamo, gli ultrasuoni non li vediamo e difficilmente li sentiamo, anzi, diciamo che non vengono uditi. Quindi, diciamo, un agente fisico che, come dicevo, si può propagare nei vari mezzi della materia e fondamentalmente nella relazione che abbiamo affrontato ieri abbiamo parlato in maniera, diciamo, approfondita del rischio ultrasuoni che si propagano in aria, quindi quelli che viaggiano nello stesso mezzo in cui viaggia il rumore. Allora, leggendo il Decreto 81, l'articolo 180, si parla, in realtà avrei detto dopo, ma ho anticipato, si parla anche di ultrasuoni tra gli agenti fisici. Ma si parla anche di infrasuoni. Allora, cerchiamo di comprendere che differenza c'è, voi siete occupati di ultrasuoni, però che differenza c'è con gli infrasuoni? Diciamo che anche gli infrasuoni rigadono al di fuori del dominio di udibilità dell'essere umano e sono anche in questo caso onde di pressione sonora che si propagano nei mezzi elastici, in aria in questo caso, ma hanno lunghezze d'onda, quindi frequenze tali che si trovano al di sotto della nostra soglia di udibilità, che si, diciamo, attesta, per quanto riguarda gli ultrasuoni, era 16-20.000 Hz, in questo caso parliamo di onde molto lunghe e quindi di frequenze molto molto basse, quindi dai 20 Hz in giù. Anche questo, diciamo, è un rischio di cui inizieremo ad occuparcene, diciamo, ad approfondire un po' la questione, perché è correlato, in questo caso, a particolari sorgenti industriali che, emettendo, diciamo, frequenze così basse hanno anche grosse dimensioni, quindi, diciamo, rispetto agli ultrasuoni in cui le lunghezze d'onde erano piccoline e ci si poteva giocare in più, in questo caso, diciamo, la questione è più delicata e esiste qualcosa a livello internazionale anche per quanto riguarda la valutazione. Allora, veniamo a parlare, appunto, di lavoro. Che categorie di lavoratori sono quelli che sono esposti agli ultrasuoni? Poi, parlando con voi, per pianificare questa nostra intervista, so che si era accennato anche al fatto che esiste un rischio di cui forse voi non vi siete occupati nella vostra relazione, in particolare anche in ambito medico. Di cosa stiamo parlando? Sì, quando parliamo di rischio da esposizione a ultrasuoni in aria, come, diciamo, già ha ribadito, parliamo comunque di lavoratori esposti a sorgenti che nel loro processo utilizzano ultrasuoni, quindi principalmente mi riferisco a lavoratori che operano con sistemi di saldature, di incollaggio ad ultrasuoni, chi magari lavora, anche se non, diciamo, non è un'esposizione, tra virgolette, fissa, chi magari lavora con sistemi di vaschette, bagnetti a ultrasuoni, quindi nei vari laboratori chimici, eccetera, e poi in ambito medico, parlando di rischio di ultrasuoni in aria, mi viene da pensare a tutta, diciamo, la fascia degli igienisti dentali che utilizzano particolari tool che sfruttano gli ultrasuoni per i processi di pulizia dei denti. Ok, e riusciamo a dare, immagino che non ci siano dati precisi, ma un dato numerico della quantità di lavoratori esposti agli ultrasuoni? Sinceramente, diciamo, non ho contezza di quest'ordine di grandezza, anche perché il tipo di sorgenti, la tecnologia va sempre avanti, quindi vengono introdotte, l'altro giorno mi parlava un collega, lo sai, adesso sul mercato ci sono anche le pistole a ultrasuoni che fanno l'incollaggio, quindi strumenti portatili, quindi sulla quantità di lavoratori esposti magari non saprei dire come ordine di grandezza a rispetto magari Paolo può. Sì, le stime che girano sono dell'ordine di qualche decina di migliaia di esposti, io credo che stiamo, al più, intorno a 100.000, che lo identifica come un rischio non estremamente diffuso, ma neanche proprio di nicchia, come potrebbero essere altri agenti, quali l'iperbarico, che veramente è limitatissimo nelle dimensioni del campione. Quindi direi che i numeri potrebbero essere fra 50 e 100.000, ma presa come stima veramente indicativa. Lei ha accennato al fatto che ha sentito appunto di nuove attività in cui si utilizzano ultrasuoni. Secondo voi è, come dire, un tipo di mondo quello in cui si utilizzano gli ultrasuoni in espansione, cioè potrebbero aumentare poi i lavoratori esposti nel futuro? Io credo che è sempre legato a tutta una serie di processi industriali come questi cambiano, quindi potrebbe anche aumentare, però non saprei, diciamo, parli una stima a questo... Però diciamo che vengono sempre più utilizzati in diverse applicazioni, ma anche in diversi settori, per esempio, anche nell'industria alimentare, per fare emulsificazioni o separare sostanze, molto spesso vengono utilizzati questi... Quello dell'energia proveniente da ultrasuoni. Benissimo, allora abbiamo avuto una panoramica che ci permette di comprendere il rischio, intanto, però veniamo a capire se lo chiamiamo rischio, rischio vuol dire che qualche effetto può darlo ai lavoratori. E con Paolo Lenzuni cominciamo ad entrare appunto sui rischi a cui i lavoratori possono essere esposti. Sì, qui c'è naturalmente un'enorme differenza fra il mondo rumore e il mondo ultrasuoni. Il rumore... Prima dicevamo, mi scusi, che effettivamente se vogliamo utilizzare un termine che può racchiudere tutto possiamo usare il rischio acustico. Sì, 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 entrambe sono onde acustiche, però la grande differenza è che il rumore sono onde acustiche che il nostro orecchio riesce a decifrare in qualche modo e che quindi espone l'orecchio stesso ad un rischio per l'appunto chiamato uditivo. Quindi il rumore a livelli medio-bassi interferisce con numerosi processi organici e quindi ci disturba a livelli molto alti danneggia il nostro udito. Per l'ultrasuono questo secondo aspetto è inesistente. L'ultrasuono non è decifrato dal nostro sistema uditivo e quindi non danneggia il nostro sistema uditivo. Ma resta un'altra area di interferenza con il nostro funzionamento che è quello appunto in cui l'ultrasuono è stato accertato come generatore di disturbi come vertigini, mal di testa, irritabilità, stanchezza chiamata astenia. Tutta una serie di disturbi che sono parzialmente sovrapposti a quelli generati dal rumore e la cui origine non è chiarissima perché è sicuramente qualcosa che manda in confusione il nostro cervello che non riesce a collegare in modo opportuno stimoli che provengono da organi diversi. E questo naturalmente genera appunto dei malesseri. Ma quali sia il canale attivo, visto che il canale non attivo è quello uditivo, non è chiarissimo. Potrebbe essere comunque uno stimolo della membrana timpanica ma su questo la ricerca internazionale ancora non ha le idee chiarissime. Quindi si parla di effetti non uditivi per gli ultrasuoni mentre gli effetti uditivi sono possibili solo per livelli totalmente legati al mondo della fantascienza, fortunatamente. Lei ha parlato appunto di ricerche, per cui ci sono comunque delle ricerche che sono state fatte, che si stanno facendo su questi temi immagino. Sì, sì, sì. C'è ricerca adesso forse più in ambito sociale ed è, se mi posso permettere, quella la parte più emergente del rischio ultrasonoro perché come diceva Raffaele prima, tutto sommato l'uso degli ultrasoni in ambito industriale è piuttosto ben consolidato pur con delle innovazioni. Ma la mia sensazione è che proprio l'innovazione tecnologica adesso si applichi più all'esposizione sociale. Parliamo di un ambito non lavorativo in questo attivo. Facciamo degli esempi. Io non dovrei occuparmi lavorando in INAI, ma insomma è chiaro che poi la contaminazione c'è. Il mondo anglosassone è abbastanza sensibile a queste tematiche. Ho letto dei lavori che si occupavano di esposizioni legate a sistemi di annunci pubblici chiamati quindi ho stazioni, difetto viare, aeroporti, centri commerciali che usano gli ultrasoni come sistema di sincronizzazione e pilotaggio di questi sistemi che naturalmente espongono a livelli medio-bassi però un numero enorme di persone e per tempi possibilmente anche non brevissimi. E là si entra in un'area difficoltosa di tutte le esposizioni che è quella delle esposizioni prolungate a livelli medio-bassi perché siamo tutti bravi a fare la correlazione danno-esposizione quando c'è una grossa intensità e un tempo medio-breve. Quella è una scienza molto nota. Ma l'esposizione prolungata a bassi livelli, chimica, rumore, è sempre più complicata da mettere in relazione poi al danno. In questo caso quindi ci si sta muovendo con un po' di circospezione perché non sono ancora chiari questi effetti possibilmente generati da livelli non elevatissimi ma per lungo tempo. Poi c'è un piccolissimo aspetto di nicchia ma come fisico trovo stimolante che è quello della generazione di piccole bolle ultrasonore che si utilizzano nei musei per poter convogliare un messaggio limitandolo a una certa area. Sembra veramente fantascienza ma con dei fasci ultrasonori di frequenze opportune facendoli interferire si riesce a generare un messaggio sonoro e a farlo sentire, a renderlo udibile soltanto in una piccola area magari di fronte a un'opera d'arte o così. Là i livelli non sono bassi perché queste interferenze devono generare un prodotto spurio ed è quello che serve quindi là ci dobbiamo veramente muovere con un po' di circospezione perché non sono stati fatti ancora studi la tecnologia è recente, molto creativa devo dire e come tutte le tecnologie veramente recenti è possibile che abbia un effetto collaterale come in questo caso di cui noi non ci siamo ancora resi conto. Bene a questo punto torniamo al lavoro torniamo sul discorso valutazione dei rischi ve ne siete occupati anche voi nella relazione allora sappiamo che i rischi da valutare sono tutti i rischi a cui può essere soggetto un lavoratore e come dicevo prima l'articolo 180 del decreto 81 tra i rischi legati agli agenti fisici indica anche gli ultrasuoni allora ok per cui c'è da valutare anche gli ultrasuoni e a questo punto come misurare l'esposizione dei lavoratori? Beh per l'esposizione in aria si utilizzano sostanzialmente schemi simili a quelli delle esposizioni al rumore quindi bisogna che ci sia una misura microfonica quindi un opportuno microfono si occuperà di rilevare queste onde e poi di capire che tipo di descrittore questa parola magica dobbiamo utilizzare Infatti era una domanda che dovevo farvi perché l'analogo con rumore funziona fino a un certo punto nel rumore la legge italiana è molto chiara c'è un oggetto chiamato livello di esposizione che non si misura ma si deduce dalle misure e che non deve superare certi livelli soglia Per l'ultrasuono questa operazione è probabilmente inutile perché non serve cumulare l'energia come ci siamo detti prima non essendoci un danno uditivo questo approccio è inutile quindi dobbiamo usare uno schema alternativo sempre legato a una misura ma identificando un'altra quantità che non è un'esposizione giornaliera ma molto probabilmente un'esposizione limitata o in un periodo piccolo perché già esposizioni di breve durata possono innescare queste reazioni di malessere di cui abbiamo parlato prima quindi dovremo identificare un altro descrittore che cos'è un descrittore? Il descrittore è quell'oggetto quella quantità che ci permette di meglio affrontare un problema in questo caso il nostro descrittore sarà probabilmente una misura di breve o brevissima durata ieri abbiamo parlato di una quantità un po' esotica il livello slow massimo in realtà è il massimo livello che si riesce a raggiungere in un secondo quindi il microfono acquisisce in continua e noi andiamo a identificare il secondo in cui avviene l'esposizione più elevata perché un oggetto così breve? perché ci permette di avere informazioni sia sulla possibile capacità di generazione di questi malesseri sia anche sulla possibile impulsività di queste onde e le onde impulsive sia quelle sonore sia quelle ultrasonore e anche quelle elettromagnetiche sono sempre oggetti che bisogna maneggiare con extra cautela e quindi questo è il motivo per cui questo descrittore un po' misterioso lo slow massimo è probabilmente la cosa migliore che possiamo avere per poter prevedere se c'è o non c'è un rischio volevo solo aggiungere che rispetto al rumore la valutazione che viene fatta con un livello di esposizione e con misure di un livello medio che ha una ponderazione su tutta la banda delle frequenze udibili la famigerata ponderazione ha per quanto riguarda gli ultrasuoni questa valutazione viene fatta per bande di terzi di ottava quindi ci sono dei limiti stabiliti su ogni banda di terzi di ottava nel range ultrasonico e volevo anche aggiungere che a livello nazionale come gruppo di coordinamento interregionale delle province autonome per la sicurezza del lavoro è addirittura d'arrivo un documento che fornirà le famose FAC delle prime indicazioni operative per poter affrontare la valutazione di questo rischio questo è importante a leggere come dire a guardare la vostra relazione perché ha un sacco di formule e diciamo ci sono un po' di tecnicismi questa valutazione può essere svolta da tutti? assolutamente sì ci sono molti altri esempi di valutazione di agenti fisici che richiedono una minima disposizione alla matematica diciamo ma questa può essere tranquillamente resa trasparente per l'utente mediante l'utilizzo di semplici applicazioni software chiunque si occupi ad esempio di stress termico ha a che fare con uno schema di descrizione che richiede proprio che si utilizzi un software di simulazione della reazione dell'organismo a questo stimolo eccessivo termico là dentro c'è una matematica molto più complicata di questa ma l'utente gestisce tranquillamente questa cosa quindi la stessa cosa avverrà per gli ultrasuoni quindi nessuna preoccupazione tutto il processo verrà reso trasparente per l'utente allora concludiamo a questo punto con la conclusione giusta cioè a questo punto come difenderci dagli ultrasuoni esistono delle misure di prevenzione degli strumenti dispositivi non ho più palli di idea forse Raffaele è più per quanto riguarda diciamo gli ambienti lavorativi quindi industriali dove ci sono queste sorgenti diciamo che l'ultrasuono rispetto all'acustica quella audibile dovrebbe essere ragionevolmente più facile da poter segregare da schermare perché parliamo di lunghezze d'onda molto più più corte rispetto quindi fenomeni di di diffrazione che magari diciamo un'onda sonora possa scavalcare l'oggetto che mettiamo a protezione è relativamente più più bassa anzi quasi inesistente però l'ultrasuono è molto direttivo quindi fugge appena trova una via di fuga può scappare quindi segregare la sorgente quindi ovviamente sempre tenendo in conto il fatto che diciamo non deve essere compromessa l'operatività diciamo della sorgente ultrasonora o un'altra possibilità che poi quella diciamo anche più diffusa in ambito diciamo delle valutazioni del rischio del rumore è fornire dispositivi di protezione individuale fornire un dispositivo di protezione individuale per l'udito diciamo per difendersi dagli ultrasuoni bisogna tenere in conto due fattori il primo è che questi dispositivi sono certificati per range udibile però ci sono studi che lasciano pensare che al crescere della frequenza l'attenuazione continui ad aumentare o comunque si mantenga costante quindi però bisogna tener conto anche un altro discorso dell'iperprotezione nel range dell'udibile perché magari andiamo a dare dispositivi di protezione individuale ad un lavoratore esposto ad ultrasoni in cui diciamo i livelli sonori non sono particolarmente elevati e quindi questo può compromettere magari l'udibilità di segnali di comunicazione o segnali di pericolo e poi c'è l'informazione e formazione del lavoratore io vi ringrazio buon lavoro e magari faremo un'intervista in futuro sugli infrasuoni visto che si parla di futuri lavori ricerche grazie è un piacere grazie grazie grazie